Andiamo al segno dello Scorpione, anche Mercurio nel vostro segno, riprendete finalmente in mano un pochettino le redini del vostro lavoro perché ultimamente eravate anche minacciati, insicuri, insicuri proprio perché notavate che c'erano delle persone pronte ad approfittarsi delle vostre debolezze. Adesso invece le cose andranno decisamente meglio anche se questa luna è ancora una luna un po' insidiosa nel segno delle ore, quindi occhio a come vi muoverete in questa giornata, ma già dalla giornata di martedì potremmo parlare di una situazione tornata ideale proprio per una riscossa sul lavoro. È una luna che parla soprattutto di sentimenti, di amore, di rapporti familiari. Se ne volete sapere qualcosa di più a proposito...